Halloween Party Sonia Pozzobon Nel quadro di Sonia Pozzobon, il viola del fondo avvolge lo spettatore in un'atmosfera di inquietudine, come un tramonto morente o un'oscurità pronta a divorare tutto. Tre avvoltoi, protagonisti dell'opera, si stagliano con brutalità sullo sfondo, i loro occhi crudeli e i becchi adunchi pronti a strappare vita. Le carni livide, quasi dello stesso colore delle loro vittime, suggeriscono che si sono cibati di ciò che è ormai morto, evocando la sensazione di una fame inarrestabile. Ma in questa visione macabra, l'artista ci ricorda che anche nel regno delle ombre e della morte, la natura segue il suo corso. Gli avvoltoi, simbolo di ciò che spesso rifiutiamo o temiamo, sono creature necessarie e fanno parte di quell'equilibrio che spesso ignoriamo. Sonia Pozzobon, che ama la natura in tutte le sue espressioni, in perfetto spirito con Halloween, ci invita a riflettere sul fascino oscuro della natura e a riconoscere la bellezza nascosta anche in ciò che appare spaventoso e inquietante. Grazie 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 Grazie